mi aveva appena parlato anche notizia dello svistro lo riporta la repubblica nord corea annuncio di kim ora siamo potenza nucleare possiamo colpire tutte le città usa e quello che non volevano si è verificato nonostante tutte le sanzioni e continua comunicato trionfale della tv di pion pen dopo il test balistico verso le le acque giapponesi abbiamo realizzato un nuovo missile analisti usa confermano potrebbe raggiungere anche washington 29 novembre 2017 ecco come ho appena detto nonostante tutte le sanzioni per cercare di bloccare la possibilità a king john un di avere missili che potessero raggiungere ogni parte dell'america la corea del nord ci è riuscito ugualmente e quale articolo spiega del nuovo modello di missile intercontinentale che la corea lanciato nel corso del test balistico effettuato quando in italia era la sera di martedì come ho pubblicato appunto sul video di ieri sera in cui evidenziavo che king john un lanciando questo ennesimo missile ha dimostrato di una vera paura come riportavano hanno riportato nei giorni precedenti diversi quotidiani sì perché è importante guardare in faccia le cose la realtà non dire cose solo per tranquillizzare in quanto siamo vicini alle feste di fine anno e per cui tranquillizzare la gente quando poi la realtà è diversa come dimostrato e dimostra anche l'articolo qua appena pubblicato ma comunque sia una cosa importante e che si è dimostrato che le sanzioni non sono servite a niente nonostante tutto qua l'articolo ripropone nuovamente sicuramente di aumentare le sanzioni contro la corea del nord bloccando anche il traffico navale che porta ciò i beni di prima necessità ecco comunque qua continua l'articolo dicendo si tratta della conferma in merito appunto al missile di ciò che gli analisti militari USA avevano sospettato il razzo il più potente da quelli sperimentati finora ha raggiunto un'altitudine di oltre 4.000 km volando per circa 50 minuti stabilendo un uomo primato regolando la traiettoria potrebbe arrivare fino a Uocido e a tutta la costa orientale americana l'ha dichiarato gli esperti ecco queste sono cose che già sapevano gli esperti americani che avrebbero potuto succedere e da qua partivano appunto le le minacce enormi del presidente Donald Trump verso la corea del nord è un po' è stato un po' come il cane che abbaia che però non morde e a quanto pare che in giorno un l'aveva capito ed ha continuato i suoi esperimenti arrivando alla conclusione del missile che l'ha reso o l'ha fatto entrare come dicono tra le potenze nucleari ora c'è solo da aspettare quale sarà la mossa del presidente americano perché bisognebbe anche ricordare una cosa un particolare non da sottovalutare che ogni volta che c'è la ricorrenza il 6 agosto dell'anniversario di quando furono sganciate le bombe atomiche sul Giappone ecco in quella ricorrenza tutti ripetono sempre ma è bassa bombe atomiche e però com'è che negli ultimi mesi il presidente americano parlava soltanto di spazzare via di distruggere di orientare di minare la Corea del Nord nello stesso modo col quale è stato bloccato il Giappone 70 anni fa più o meno è come dire le parole sono solo parole è un po' come l'esempio dei kurdi siriani che finché hanno fatto comodo all'America per combattere l'Isis gli ha armati gli ha sostenuti gli ha eccetera e poi ieri li hanno come si dice abbandonati per far piacere alla Turchia e così non le danno più le armi non le danno più niente e il suo segno americano è sparito come dire tutti quei soldati kurdi sono morti per niente ecco l'importanza di avere una parola vuol dire essere credibili davanti a se stessi ma al mondo intero ecco perché King John 1 alla fine ha fatto quello che ha voluto e ha realizzato il suo progetto più importante diventare una nazione potentissima grazie al suo arsenale nucleare ora come dico sempre bisogna aspettare solo i fatti perché in questa parte dell'articolo si può leggere che il segretario di Stato USA dice ritengo che le opzioni diplomatiche per risolvere la crisi restano sul tavolo ma ha chiesto alla comunità internazionale di prendere ulteriori misure al di là delle sanzioni già adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU compreso il diritto di proibire il traffico marittimo che trasporta beni verso la Corea del Nord ecco come dire ogni volta che mettono una sanzione in più contro la Corea del Nord la Corea del Nord reagisce come abbiamo visto lanciando missili e cosa potrà succedere ancora dopo queste ulteriori sanzioni se verranno approvate forse la cosa peggiore che potrebbe avvenire sotto le feste di fine anno sì perché la Corea del Nord potrebbe decidere qualsiasi cosa come ho già riportato nel video di ieri e sotto le feste di Natale non sarebbe auspicabile un regalo del genere riportato nella foto ma la conclusione di questo breve video è giusto ricordare che alla Corea del Nord è stato permesso in dieci anni poco alla volta di costruire creare la sua potenza nucleare e perché solo adesso che ce l'ha e pronta ad usarla vogliono fare di tutto attraverso le sanzioni e minacce perché la usi ecco questa è la domanda delle domande se l'avessero fermata prima non saremmo al punto di non ritorno in cui ci stiamo trovando perché quello che nasce dall'esplosione di una bomba nucleare è l'albero della morte di una bomba nucleare di una bomba nucleare Grazie.